ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi che state guardando sia voi che state guardando perché diventate protagonisti con i vostri video con i vostri orologi con le vostre collezioni e soprattutto con il vostro parlare con la vostra parlantina che spesso non è poi così degna di attenzione nel senso che non riuscite proprio a farci catturare l'attenzione quindi li pubblico ugualmente perché per l'amor del cielo non è che si nasce tutti parlantinosi e che si riesce a fare le cose fatte bene però cercate di essere almeno più concesi possibile nel caso vi rendiate conto che non siete in grado di sostenere una descrizione così accurata per lungo tempo insomma piuttosto tagliate corto e cercate di dire meno cose ma meglio come partecipare lo sapete basta guardare qua sotto in sovrappressione c'è l'email l'indirizzo email voi caricate il video su wetransfer.com mi mandate il link via email e io lo scarico tutto lì oggi prima di guardare il video vi mostro l'orologio del giorno che è una new entry in collezione il mio nuovissimo viler vetta dyna wind 39 mm di diametro cassa calibro sellita sv200 quadrante militare che io ho messo sto utilizzando con un cinturino nato da 20 mm qual è il trucco perché 20 mm ora se tornate indietro vedete il fermo immagine e vedete che c'è un po di spazio perché l'ansai da 22 e io ci ho messo un cinturino nato da 20 per sfinarlo un po quindi balla un pochino è una licenza poetica che mi sono preso per farmelo piacere maggiormente con un cinturino più stretto po come faceva james bond con il suo submariner che c'era il nato più stretto delle ansie se vi ricordate andate a cercare le immagini un ottimo orologio mi piace tanto c'è la sua bellissima leggibilità purtroppo c'è il vetro minerale ma è un minus perché l'orologio perfetto non esiste e lui c'è il vetro minerale se vuole fare graffiare c'è poco da fare primo video dai passiamo il video ciao davide ciao grazie a tuo bellissimo canale mi è venuta voglia di condividere appunto quella che la mia piccola raccolta di orologi va bene quindi questa appassionaccia inizio subito il primo orologio è questo swatch ironi molto simpatico ce l'ho da una decina d'anni penso sia un modello conosciuto a tutti quanti è la dimensione un po più piccolina rispetto ai classici ai classici ironi che credo sia una 42 in ogni caso va beh insomma mi piace l'originalità del quadrante un quarzo uno swatch è sempre uno swatch dopo di che c'è questo tisso t touch che non ti fa impazzire ma no capisco perfettamente tiro la verità effettivamente insomma non può non ha nulla a che vedere rispetto appunto al fascino e quello che possa trasmettere diciamo un orologio meccanico però vabbè devo dire che a livello di strumento lo trovo simpatico poi insomma trovo anche divertente il discorso appunto che si possa giocare un pochino con il touch seppur appunto non sia un orologio meccanico ce l'aveva un mio amico e ha smesso di funzionargli il touch appunto e ha dovuto patire le piene dell'inferno anzi credo che non l'abbia neppure riparato perché doveva mandarlo direttamente all'assistenza ufficiale per far cambiare tutto costava un sacco di soldi perché non è che lo puoi portare da un orologiaio e te lo sistema alla bella e meglio no cioè per quello che vale un orologio così t touch digitale uno non vorrebbe nemmeno spenderci 10 euro su un orologio così no in riparazione e proprio lo prendi proprio perché ti serve un orologio da utilizzare così non per il gusto per il piacere dell'orologeria ti serve e se ti si rompe ti dà già fastidio il fatto che si sia rotto se a noi poveri imbecilli ci si rompe un orologio meccanico è guai al mondo dobbiamo fare di tutto per farlo ripristinare per farlo tornare come era prima salvatemelo fagli l'operazione a cuore aperto fai quello che vuoi salvamelo costi quel che costi hai capito qual è la differenza dell'approccio tra un orologio così digitale soft touch è un orologio meccanico che lo vuoi salvare sempre comunque può avere il suo perché secondo me ecco poi devo dire realizzato piuttosto bene da parte di Tissot l'orologio che segue è un orologio che ha un valore sentimentale per me veramente elevato mi è stato regalato da mia moglie tanti anni fa per la laurea lo so qual è la tua opinione riguardo il brand chiaramente lo sappiamo tutti non è un brand che fa orologi maserati però insomma devo dire che è anche fatto bene tiene il tempo davvero da dio considerato il movimento probabilmente cinese quindi vabbè è un fashion watch lo prendo per per quello che è possibilmente mi prenderò un cioffecalert ma me lo prendo volentieri già preso in ogni caso devo dire che sono sono felice appunto di averlo felice dopodiché vabbè orologio che conosciamo tutti questo è l'SKX è un top bellissimo bellissimo tiene il tempo davvero male in tutta onestà penso che perda qualcosa come quasi un minuto al giorno ma a parte quello trovo la cassa fantastica gli ho messo un bracciale un po' migliore credo sia un miltat in ogni caso vabbè lo conosciamo davvero una bomba e poi con una storia pazzesca sempre riguardo lo stesso tipo di orologio quindi diver il prossimo eccolo qui black bay 58 blue ce l'ho da tre anni lo uso tantissimo non mi stanco mai di portarlo è un orologio fantastico i pochi commenti secondo me le critiche sterili che si fanno sono correlate ai rivetti eccetera trovo un orologio eccezionale anzi mi piacciono i rivetti no niente sui rivetti non ho nulla da dire no il fatto che siano non siano funzionali cioè che non siano che siano solo decorativi a me sinceramente non mi interessa proprio niente cioè c'è anche sul sul mio oris diver 65 bronze cioè i rivetti finti laterali no cosa vuol dire sono sono decorativi come come può essere decorativo qualsiasi altro elemento che si va a mettere anche sull'orologio no altrimenti di cosa stiamo parlando cioè non non è una critica da 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 valida i rivetti non sono funzionali no no pur finti ma devo dire che è un orologio veramente formidabile formidabile l'orologio il suo cugino se così possiamo chiamarlo che viene dopo è il tudor pelagos fxd fixed è un orologio tutto in titanio con le anse fisse vabbè lo conosciamo che questo la scala la ghiera retrograda mi piace molto devo dire che a livello di luminescenza è pazzesco e questo qui ha una particolarità perché vabbè è la collaborazione con la marina nazionale francese ma questo qui è particolare mi piace anche per quello perché vabbè l'ho preso nel 2021 quindi lme nel marina nazionale 21 particolarità di questi 21 è che appunto nel 2021 in realtà è uscito in produzione appunto è stato presentato nell'ottobre novembre quindi facendo due conti è stato bene o male in produzione per tre mesi dopo di che si è passati appunto alla dicitura sul fondello 22 ora siamo al 23 ma i 21 sono piuttosto orari un altro mia data di nascita quindi mi fa piacere allora qualche considerazione su questo qua bello orologio perché la sua personalità un bel tudor che si discosta dai soliti stilemi no per lo meno per gli indici quadrati no però le cose che non mi piacciono di questo modello sono il fatto che sia in titanio e lo sono fatico cioè dico non mi piacciono nel senso per arrivare a comprarlo poi lo apprezzo se ce l'hai te lo apprezzo se lo vedo qualcun altro lo apprezzo me il titanio mi frena il fatto delle anse fisse che però da una parte può essere anche una qualcosa di originale no volendo anche un cinturino in pelle gli si può costruire attorno quindi non è un problema quello che mi piace è il fatto della scala retrograda cioè per chi non lo sapesse guardate il 50 è il posto del 10 quindi si va alla rovescia 50 40 30 20 10 perché perché mi torna secondo me meglio perché è l'ideale perché io in quel momento lì vado a mettere il 15 sulla sfera dei minuti e so che quando la sfera dei minuti raggiungerà il triangolo sono passati 15 minuti è un conto alla rovescia che ha senso perché poi molti orologi solamente il triangolo il dot ad ore 12 è illuminato quindi quello a quale bisogna arrivare no secondo me è più funzionale così non capisco perché non venga utilizzato più spesso possibile e secondo me è meglio così poi ognuno dica la propria opinione perché questo punto si tratta di opinioni dopodiché altro orologio del 1980 mi piacciono molto i vintage ho un polso piccolo quindi cosa trovare di meglio almeno per i miei gusti di un rolex date 34 mm plexi quadrante veramente profondo e un nero grigio antracite dipende in ogni caso lo trovo un orologio fantastico per tutti i giorni perfetto insomma comodissimo portabilissimo in qualsiasi occasione vabbè sappiamo un attimo le doti dei date dei day just questo qui mi piace davvero davvero tanto tanto andando un po indietro nel tempo come detto mi piacciono molto i vintage questo qui è un submariner il primo submariner il 1680 e di fatto questo la particolarità di avere la scritta rossa è un 1972 mai lucidato tenuto davvero bene questo qui appunto la particolarità di avere la scritta samariner rossa cosa che è stata prodotta solo nel 70 71 72 in base a quello che ho potuto leggere la particolarità ovviamente di day rolex anni 70 è il bracciale a maglie ripiegate ad oggi molti storcerebbero il naso a me piace tantissimo sentire questa questo feeling di vintage appunto anche su questi dettagli qui sentire un pochino è falso è falso divertente qualcuno direbbe che è falso perché fa il rumore del serpente a sonaglie no leggende metropolitane di gente che ma qualcuno storcerebbe il naso per il discorso del bracciale a maglie ripiegate no nessuno storce il naso in relazione ad un rolex del 72 o a un qualsiasi altro vintage qualcuno storce il naso ma fino a certo punto negli orologi moderni no poi anche io recensisco l'horus seiko orient che hanno il bracciale a maglie ripiegate no citizen e non è un problema cioè non è che è un deal breaking cioè un qualcosa che ti impedisce l'acquisto no se è consapevole che hai fatto così e lo accetti per quello che è come il vetro minerale in questo orologio o nel citizen pro master o in altri orologi lo accetti perché ti piace talmente tanto l'orologio l'orologio che certi punti deboli poi riprendi perché al giorno d'oggi la qualità costruttiva di chiunque di qualsiasi micro brand e anche dei cinesi è quella di fare bracciali a maglie piene quindi uno come standard da quello lì massiccio bello potente che col tempo magari non si rovina ma vanno benissimo anche i bracciali a maglie piegate specie sui vintage quindi questo qua che tra l'altro è un pezzo abbastanza cioè importante a livello collezionistico su marina e la scritta rossa è un gran bel pezzo io non lo vorrei io non lo comprerei io non ci spenderei soldi ma gli riconosciamo che è un gran bel pezzo però che dire orologio con tantissimo fascino non si vede benissimo dal video però ad avere una patina leggera e bellissima secondo me insomma un pochino bel colpo ragazzi recentemente ho preso questo air king è la seconda referenza degli air king moderni non è più quello basato sulla cassa milgauss quindi praticamente ha una cassa molto più sottile che mi piace tantissimo ha tutte le comodità dell'estensione sul bracciale la doppia clasp quindi come un vero appunto sportivo rolex robustissimo fatto veramente bene mi piace perché non piace tanto agli altri a me non per finire ho questo zenith bellino zenith stellina top tutto in oro 18 orologio classico appunto per per occasione un pochino più formali ha un quadrante che non è stato ristampato semplicemente è rimasto per tanti anni tanti anni in cassetta conservato molto bene la luce solare non ha non l'ha rovinato ecco e per finire vabbè ti mostro l'orologio di mia moglie che si è appassionata appunto a questo mondo e porta un bellissimo cartier santos piccolino veramente topino topino anni 80 automatico comunque vabbè insomma cartier sappiamo che fa degli orologi pazzeschi secondo me a livello di design bellissimi unici ed infine vabbè che dirti continua così con il canale vabbè io spero a breve di poter aggiungere magari un bright link cronomat anni 80 piuttosto che uno zenith al primo era la collezione perché mi mancheranno e che mi mancano di fatto dei cronografi meccanici e niente ti faccio i miei migliori auguri a presto ciao grazie grazie ho parlato di parlantina all'inizio e sto qua come parlantina boom batte tutti tanti belli orologi ragazzo mio tanti a parte quel maserati che però è frutto di un regalo della inconsapevole e ignara moglie se non sbaglio e quindi vabbè ce l'hai fatto vedere gli abbiamo della ciofeca e siamo tutti a posto poi gli altri tutti belli orologi dagli entry level come il secco e 6kx fino a arrivare a submariner scritta rossa che poi è tenuto benissimo ma tanta roba e poi anche l'oroggino della moglie il mini cartier gli ho dato il toppino top piccolo tanta bella roba bravo 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 zenith al primero bright link cronomat e sono due due cronografi che anche nella versione moderna penso parlare di quelli vintage e sono iconici allo stesso modo sono iconici perché erano iconici quelli cioè è capito bravo promosso ciao davide sono ciao da foggia e oggi vi volevo presentare 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 del canale il mio mega costellation automatico ole cos'è del 1969 calibro 751 24 rubini eccolo qui bello top passata 36 mm datario e giorno tutto in oro mamma mea di full gold bellissimo corona originale tutto originale compreso anche il bracciale e certo complimenti per l'anello sul pollice e l'orologio del 1969 addirittura 17 aprile del 1969 addirittura questo è la garanzia originale con tutti i pezzi di ricambio che sono stati sostituiti durante il corso della vita del del segnatempo fortunatamente è stata conservata anche la scatola diciamo è la contro scatola grazie mille grazie a tutti gli amici del canale continuo così ciao 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 paura in the night video corto ma d'altronde ci voleva far vedere l'unico pezzo magari non è l'unico però voleva farci vedere questo pezzo che lo tiene come una reliquia giustamente scatola garanzia degli anni 60 orologio full gold in condizioni eccezionali con tutti i pezzi di ricambio di organi che ha perso durante la sua vita terrena tanta roba e ti invidio ti invidio nel senso che lo vorrei anch'io però gratis lo vorrei però non so se spenderei tanti soldi perché credo che costi tantino ma in un orologio vintage come ho detto mille mille volte no sono disposto a spendere fino 3 4 5 6 7 100 euro per uno un login vintage da mettere in collezione ma un millino e più su un orologio vintage io non credo che al momento poi mai dire mai perché nella vita lo sapete che uno dice io io mai io questa cosa mai e poi dopo due mesi la fa tanto è così prossimo video saluto a tutti gli amici del canale sono francesco oggi vi presento la mia collezione di orologi e dove sei sulla luna questo lava medical orologio russo con scala pulsometrica a partenza sia da ore 12 che da ore 6 lancetta ai secondi con questo lolli pop rosso fondello a vite a scala pulsometrica parte che parte sia da ore 12 che ore 6 nel senso che siccome non è un cronografo la scala pulsometrica tu devi aspettare che la lancetta sia sullo zero no quindi a ore 12 per partire a calcolare i tempi del polso ti hanno fatto partire la scala anche ore 6 in modo che non devi aspettare per forza un minuto che la lancetta faccia tutto il giro per iniziare ma puoi iniziare anche a quando è al 30 è una bella idea intelligente targato cccp orologio che in cassa un calibro slava 24 28 calibro manuale con pulsante per il cambio dato orologio su cui ho montato questo bracciale maglia milano particolare ti presento poi il mio skx 013 38 mm 200 metri questo è l'orologio che utilizzo solitamente per i viaggi o per le avventure le avventure le avventure lo utilizzo in maniera molto spensierata spensierata durante le avventure si fa di tutto proseguiamo poi con questo Eberhard Eberhard Aiglon preferenza 41 116 orologio secondo me molto elegante per questi indici romani a ore 12 3 e 9 e questa è una scelta dei secondi molto lunga un po' troppi i numeri romani proseguiamo poi con questo Omega Seamaster 300 in particolare questo in cassa un calibro 11 0 9 ed è la referenza 2 5 5 2 80 molto bella secondo me questa questa ghiera argentata e poi questo quadrante iconico io ho l'ultima versione quella nuovissima l'ultima uscita no? e quando vedo i vostri video di questi Seamaster 300 qua professional quasi quasi mi viene lo schieribito di fare la collezione solamente dei Seamaster 300 professional andando a ritroso fino al 96 se non sbaglio 93 avremo poi dopo diventa oddio se ci mettiamo anche tutte le limited edition che Omega spara così come se non ci fosse domani non si finisce più eh perché proprio anche su questi modelli qua James Bond 007 No Time To Die e tutto quello che ti parla a te quante ne avranno fatte quindi cioè si andrebbe svenati eh ma solamente anche a collezionare i modelli base si andrebbe svenati quindi è così una un'idea che mi viene ogni tanto una malsana idea ma che poi non vi mostro poi il mio Omega Seamaster crono stop in particolare in questa versione troviamo una scala pulsometria graduata per 15 pulsazioni 15 questo orologio ha la particolarità di essere un cronografo monopulsante in cassa un calibro 865 calibro manuale derivato dal più famoso 861 e in particolare questa referenza è la 145007 bello proseguiamo poi con l'ultimo orologio che vi mostro questo Omega Seamaster 176005 questo qui in cassa invece un calibro automatico un 1040 realizzato da Alemania in collaborazione con Omega questo orologio ha la particolarità di aver acquistato il nomignolo Jedi con questo vi saluto ciao 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 sbrigativo l'amico allora sì orologi particolari a parte Seamaster 300 orologi particolari soprattutto quei due cronografi lì di Omega due Seamaster cronografo che sinceramente non avevo mai visti nemmeno il crono stop se non sbaglio particolari belli anche questo qua è un classico esempio di come quando uno si addentra nel vintage può scoprire anche delle chicche no? che è più magari non passano nemmeno per l'anticamera del cervello però c'è anche da spendere soldi perché non te li regalano questi Omega Qua Vintage però ognuno decide come spendere i propri soldi in questa passione e in quale direzione andare cioè non è che ce n'è una giusta una sbagliata belli 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 ciao Davide sono Riccardo sono il tuo conterraneo che si è trasferito in Puglia tanti anni fa per lavoro allora conterraneo no perché vedete l'accento già mi sono bastate tre parole è massese te sei massese e si sente eh cioè che Massa voi dovete sapere che Massa non è una città a sé stante praticamente c'è Carrara e poi c'è il casello di Carrara Sud dove si raggiunge Massa capito? quindi sono diciamo un gradino un po' sotto a questo punto oggi al polso ho un Hamilton Kaki Pilot day date bello che è un orologio che a me piace tantissimo che secondo me ha un rapporto qualità prezzo certo molto elevato e lo indosso tutti i giorni e la mia domanda è questa allo stato attuale è meglio un calibro di fornitura o un calibro di manifattura per quanto riguarda le prestazioni perché è chiaro che poi anche i prezzi dei relativi orologi cambiano ciao ciao hai fatto una domanda del secolo ma è meglio il calibro di fornitura o di manifattura ma attenzione la domanda qua hai detto per le prestazioni per le prestazioni non ci interessa assolutamente niente il calibro di manifattura o di fornitura perché puoi prendere tranquillamente un sellita ok sv200 certificato cost e le prestazioni devono essere esattamente come quelle di un rolex certificato cost rolex certificato superlative cross anche da se stessa quindi il range inferiore però come precisione i calibri di fornitura te la raggiungono uguale basta che li regoli bene che li realizzi bene con i materiali migliori e c'è il calibro di fornitura che è preciso cioè è un po' come quando si fanno gli orologi tourbillon perché almeno il bilanciere ruota e la forza di gravità agisce sul bilanciere sempre in maniera differente no? piuttosto che sempre nello stesso punto per una maggiore precisione ma a cosa serve il tourbillon se basta regolare un sellite sv200 per essere preciso a niente a cosa serve un calibro di manifattura super decorato fatto benissimo con un'architettura particolare se un sellite sv200 certificato cost è preciso se anche un qualsiasi orologio come può essere un powermatico 80 senza essere certificato cost è già preciso di suo cioè la precisione ma un rolex meno 2 più 2 cioè senza tourbillon senza la precisione è in influence cioè gli step successivi come il tourbillon come altre lavorazioni che si fanno che si va alla ricerca la spirale regolabile questo quell'altro poi alla fin fine deve avere la precisione l'accuratezza la si ottiene anche con dei calibri abbastanza base no? ma invece il discorso cambia quando si dice voglio un calibro di manifattura per esclusività ok? io voglio un calibro di manifattura in un orologio da un certo livello in su perché è un calibro un po' esclusivo un calibro che altri orologi non possono incassare perché? perché il calibro di fornitura ok? come un sellite sv200 che è qua dentro lo incassa lui lo incassa un micro brand lo incassa un qualsiasi altro marchio che può essere Oris magari o un risultato ma possono incassare tutti un calibro che è dentro al Rolex ad esempio un calibro Rolex lo incassa solamente Rolex un calibro di Omega lo incassa solamente Omega per l'esclusività poi ci sono anche i casi nei quali Tudor il calibro di Tudor non lo incassa solamente Tudor lo incassano anche altri perché lo cede anche ad altri marchi prestigiosi quindi non è di manifattura sì che lo è di manifattura solamente che lo cede anche ad altri però non è più l'esclusività insomma le sfaccettature sono così tante un altro esempio manifattura sarebbe una roba fatta a mano manifattura fatta da zero dall'inizio alla fine in casa sotto lo stesso tento fatto no? allora si va a parlare di orologiai di quegli artigianali indipendenti che costano migliaia centinaia di migliaia di euro no? oggi tutto è meccanizzato industrializzato quindi manifattura in quel senso lì no? insomma come vedi è complicato ma sicuramente per quanto riguarda la precisione non è meglio avere un calibro di manifattura rispetto ad uno di fornitura se vuoi un calibro preciso basta che scegli un orologio con un calibro all'interno certificato COSC e hai l'orologio preciso con un calibro di fornitura tutto lì ciao Davide eccomi con la collezione ciao bravo abbiamo quattro swatch ovviamente non sono delle recenti acquisizioni ma sono un orologio a cui sono molto legato questo in particolare è uno swatch scuba che risale agli anni 90 penso che è stato l'orologio che mi hanno regalato quando ho iniziato la prima elementare perché volevo poter leggere l'ora durante la scuola quindi sono sempre stato molto affascinato dagli orologi e mi fa piacere tenerlo bravo particolare insomma particolare simpatico sicuramente gli stilemi come dicono quelli bravi dei diver appunto degli scuba diver bravo dai questo poi era appunto pieni anni 90 anni della swatch è stato l'orologio che mi hanno regalato agli otto anni alla prima comunione anche qua ho veramente chiare in mente ancora le emozioni di quando ricevetti questo orologio e adesso piangiamo eh e niente da dire appunto sono orologi che hanno un valore puramente affettivo affettivo e questi sono altri orologi che erano arrivarono direttamente insomma negli anni in cui uscirono questo qua eh azzurro e questo era una delle varie collezioni che faceva la swatch sui temi del dei dei fantini delle cose dell'equitazione simpatico andando avanti oh ho un tisso bellino questo anni sessanta sì sessanta con la sua ghiera con la sua corona originale questo è un bel cinturino mi hanno detto che è della Braille molto una pelle molto morbida invece veramente brutta la mia scatola porta orologi devo dire una qualità pessima concordo qui sotto abbiamo un khaki field eh ho cambiato da poco il cinturino molto carino è un classico un skx 007 ho messo un cinturino tropic tropic un cinturino tropic va bene ma abbiamo cos'è quinto video è già il terzo video che c'è le skx con quadrante nero eh ragazzi qua tutti mettono in mostra il loro skx cinturino tropic è bello è bello sta bene su tutto non originale amazon non ricordo la marca però ha pagato 20 euro morbidissimo consigliatissimo se mi ricordassi il nome ehm un casio g-shock orologio da battaglia visto che da battaglia impossibile non usare questa locuzione quando si parla di orologi da battaglia a batteria ehm e cos'è eccolo qua 145 022 top bello l'onjin flagship oh anche questo qua bello eh senza senza l'ancetta a secondi eh una cassa che non mi piace molto è tagliata come no come si vede in modo molto invece è bello netto ma eh ecco insomma lo tengo ci sono affezionato bello invece il recente acquisto invece da crono 24 questo zenith pilot è il calibro 4.20 la eh corona non è originale ehm io l'ho preso sinceramente perché eh sempre visto mi piaceva non mi piace molto la forma della cassa ehm ecco non ho ancora capito se ho preso una fregatura o meno eh stavo pensando anch'io il piacere con cui lo porto soprattutto da quando ho sostituito con questo cinturino nato anche questo preso da amazon 13 euro veramente un best buy e dicevo da il piacere con cui lo porto da scusami però non si può vedere il cinturino il zulu zulu si chiama sto cinturino qua nebbene ho nato che ha questi anelli qua giganti di acciaio su di un orologio vintage anni sessanta mamma mia ce lo fa scomparire proprio anche se ora perché lo vedi così no se lo metti al polso non è come questo qua che è sottile che io l'ho messo single pass e passa sotto quello lì ti fa un polso grosso così con un orologino che scompare poi sul discorso che ti hai detto non so se ho preso una fregatura io stavo lì stavo guardando stavo guardando stavo cercando di guardare la corona non è la sua ma una cassa così su uno zenith io non l'ho mai vista mi puzza un pochino no sono quelle situazioni nelle quali siccome nessuno sa tutto di tutto no però il ragionamento che faccio io è questo nel momento in cui tu vedi un orologio parlo da acquirente no da comprare e ti sorge un dubbio un dubbio passa oltre passa oltre tanto non 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 rischi niente a passare oltre rischi invece ad acquistarlo che poi non era giusto capito non è bene acquistare una cosa con un dubbio dici va bene poi me lo guardo e guardiamo se è tutto a posto no perché poi dopo se c'è la fregatura ha preso la fregatura io qua vedo un dubbio questa cassa così tondeggiante su uno zenith così poi il quadrante è più vecchio di un tipo di cassa così una cassa con le anse così tondeggianti che vanno tutt'uno con la cassa non usavano negli anni sessanta se non oyster di Rolex insomma ho detto tante cose tutte insieme spero di essermi spiegato però insomma il dubbio c'è poi se ce l'hai anche te poi su crono 24 negli ultimi giorni negli ultimi tempi mi fa dire che insomma anche fosse comunque ho speso speso bene ecco se può esservi utile ho speso quasi quasi 600 euro su crono 24 per l'acquisto ora 600 euro non è che che sono pochi eh 600 euro con 600 euro sicuramente ci prendi un orologio tutto originale della zenith che è un bello jean se ti vuoi togliere l'ospizio perchè non è che stai collezionando zenith per cui volevi uno zenith per forza se volevi un orologio vintage come si deve con 600 euro ne prendi proprio di quelli originali tutto e per tutto a prova di scemo ora qua così non lo so non vorrei mi dispiacerebbe per te questo orologio ma ripeto sono contento di averlo preso mi piace contento a te basta ti rifaccio una panoramica vai love grazie ancora a te e a tutti gli altri che mandano che mandano i contributi perché e rendono possibile diciamo queste lunghe serate di queste carrellate di orologi va bene ciao 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 begli orologi begli orologi con lo speedmaster professional che è perfetto msqs kx l'emilton khaki field quel longjin lì che dicevi che c'è la cassa che è perché netta tagliata di lei piace invece ogni tanto anche un orologio che abbia le le finiture così spigolose che abbia una cassa tagliata di netto ci sta poi piccolino senza lancetta di seconda è un dress watch che dici magari poteva essere più elegante tondeggiante forse sì però al suo perché anche così lo zenith abbiamo diciamo studiato bene nei dettagli più o meno non siamo nessuno è convinto speriamo ci sia qualche esperto di zenith che sotto al video lasci qualche commento dica no perché il pignolazzo si mette gli occhiali no perché furio è perché ecco ci vuole qualcuno così commentate prossimo video ciao davide mi chiamo Alessio e ti volevo presentare questa piccolissima collezione collezione non è tantissimo che ho iniziato circa un paio d'anni seguo il tuo canale insomma mi piace tanto infatti voglio farti già i complimenti bravo allora volevo cominciare da questo citizen ecodrive radiocontrollato titanium insomma tutto quello che che ne concerne è un secondo me un bello orologio io l'ho comprato perché comunque mi piace tanto e e niente nulla di particolare comunque è un orologino che ho acquistato tra l'altro nonostante anche io preferisca gli orologi meccanici automatici ti vedo convinto eh gli orologi si comprano anche perché ci piacciono bravo soprattutto allora poi ti faccio vedere l'orient tristar oh che bellino sto qua è secondo me uno di quelli più bellini perché quadrante marrone sto qua feci la recensione tre quattro anni fa non so quando costava 100 euro e poco più 96 lo vendevano quel quadrante così tobacco tabacco no è andato a ruba è andato scomparso sono anni che non si trova perché sono convinto che la gente ci cliccherebbe ancora sotto è un orologio 39 millimetri elegante che insomma sembra di un livello superiore ve lo dico io che lo però non si trova più non è niente di eccezionale eh non è che si sente un po' di rumore questi movimenti diciamo che non sono niente di particolare comunque secondo me orient fa dei buoni dei buoni orologi comunque con un buon rapporto qualità prezzo bravo ovviamente non è che ho orologi che si sa quale livello visto che insomma sono un po' un poveretto via allora questo invece quest'altro è un Seiko eh questo mi è stato regalato per il matrimonio e quindi insomma ci sono affezionato questo ehm a parte il Citizen l'altro unico orologio che ho a batteria è un quarzo come si usa dire e questo secondo me è molto bello perché se lo vedi da vicino ci sono dei riflessi eh ecco qui si vede i riflessi eh azzurri sulle lancette eh beh secondo me è un bello orologio un cronografo secondo me molto carino poi passiamo a un russo un russo che secondo me non può mai mancare in collezione bellino eh questo è uno Sturmarski 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 Calipro Vostok e automatico non è niente di particolare eh però diciamo che mh e orologi come questo secondo me ci possono stare in collezione certo c'era questa diatriba insomma su sui Vostok che fanno la ruggine insomma di Alcanotto alcuni io l'ho avuto effettivamente sì anche io ho avuto questo problema su su un Vostok però sono orologi economici però hanno una storia e quindi sì e quindi secondo me vale sempre la pena averli ecco la particolarità di questo è che che è blu ma con se lo vediamo da vicino ecco vedi il quadrante prende dei riflessi sul marrone è un è un blu che vira sul marrone a seconda di come di come ci batte la luce tra l'altro questo è insomma è un'edizione limitata il cinturino gliel'ho cambiato e ecco infatti si vede 1767 di 2000 si fa per dire poi dietro c'è Yuri Gagarin il primo uomo su nello spazio insomma un po' di storia che secondo me è molto molto bella un souvenir i Sturmarsk insieme ai Vostok e e anche diciamo ai Poliot hanno un senso poi un micro brand toscano come noi htd htd eh sì questo è l'acquatic bello eh calibro della serie 9000 e beh secondo me è un bello orologio forse questo qui è a livello di percezione di qualità eh il migliore devo dire che loro nonostante abbiano una politica marketing diciamo sì che non mi entusiasma per niente eh fanno degli orologi di quindi secondo me ottima qualità e ottima fattura un orologio tra l'altro molto preciso e insomma vengono assemblati e regolati direttamente da da loro da un loro orologiaio interno bravi poi c'ho l'ultimo e e seichino alpinist questo è questo è un seico alpinist chiamato baby alpinist allora qui ho messo un bracciale un bracciale strap code comunque ho anche il suo che secondo me è bello lo stesso e che ci volevo provare un bracciale un po' diverso e quindi sai cosa c'è? i bracciali strap code sono veramente fatti bene sono veramente il non plus ultra della qualità proprio a livello di percepito però sono massicci sono massicci no? ed è quello che ti aspetteresti anche da un bel bracciale e su questo orologio qua questo super jubilee perché questo qua dovrebbe essere super jubilee è veramente massiccio cioè ha veramente le le maglie troppo spesse troppo vistose per un orologio così esile così classico io non avrei fatto il cambio in questo caso sui diver sui diver si possono mettere no? gli strap code i miltat belli massicci sui diver sul kamasu su ma su questo orologio qua così io avrei lasciato il suo originale che poi come mamma seiko l'ha fatto poi come dici te non è che fa schifo eh però è voluto farla sta prova ma però sta prova qua non è che questo qua lo togli e lo metti da qualche altra parte perché dovrebbe essere il suo dedicato come misura di ansie circonferenza cassa raggio bla 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 però vediamo ho preso della strap code comunque carino anche il suo eh insomma un orologio certo comunque fatto bene un quadrante che è veramente molto molto bello questo monta il calibro seiko eh beh 6R35 se non mi sbaglio e anche lui è piuttosto preciso insomma se ne dice male bene però oddio io per ora mi sto mi sto trovando bene con questo orologio dai poi c'è due orologini della mia moglie vediamo un po' questo è un fossile è un regalo niente di particolare io lo chiamo il fossile perché insomma non è che sia il più grande il più grande orologio a livello qualitativo e poi questo è un regalo che gli ho fatto un login cavoli top io do il top anche se è in oro bello e insomma un orologio molto carino un os un fondo di magazzino e tutto originale e niente ok questa era la mia collezione e ti ringrazio per lo spazio che ci dai e un saluto a tutti gli amici del canale ciao 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 niente dai un amico di Firenze qua ci ha mostrato degli orologi tutti di di rispetto tutti degni di rispetto quale mi ha colpito di più non saprei quale sicuramente quello che mi ha colpito di meno è il fossile quello della della signora lì che vabbè la signora lo indosserà con un piacere perché voglio dire è anche bellino a vedersi no? è femminile tutto quello che vuoi per il resto l'HTD bellino ci piace non mi piace nemmeno a me il sistema con cui fanno marketing no? così con questi hype questa questa voglia di 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 essere sopra le righe un po' troppo no? un po' meno sarebbe il caso un po' più umili un po' più di umiltà come ad esempio l'amico Calamai l'umiltà fatta a persona è lui no? è proprio poi va bene niente promosso tutti i begli orologi anche l'ultimo quarto della lungina a cui ho dato il top no? e ogni tanto gli do di pancia i top non state a fare la classifica no? ma dai il top a questo però a questo no però quella volta l'hai dato a quello di pancia come viene viene no? chiaramente devono essere orologi che colpiscono lì per lì un toppino gli si da sempre dai boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao